Rieccoci qui dal Salone del Risparmio 2019, sono in compagnia di Paolo Paschetta di PicTé. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Il tema ovviamente lo stiamo ripetendo, ma ripetita Juvent si dice, la sostenibilità è appunto al centro di questo salone di quest'anno. Sostenibilità che però PicTé già percorreva in tempi non sospetti, è così? Sì, certamente. Iniziamo col dire che la sostenibilità nel mondo degli investimenti per noi non è certamente marketing ma è un fatto. È una dimensione imprescindibile del mondo del risparmio gestito che non è destinata a passare di moda come passano di moda certi trend, certi prodotti, ma destinata inevitabilmente a rafforzarsi nei prossimi anni. Infatti per dirla tutta noi eravamo già presenti col tema della sostenibilità lo scorso anno, lo scorso salone con uno degli stand più verdi mai realizzati e proprio nella nostra conferenza con i temi inerenti a questo argomento. Per PicTé la sostenibilità è qualcosa di cruciale nel nostro DNA, noi parliamo e investiamo in sostenibilità da oltre 20 anni, siamo tra le prime società ad aver firmato i principi per gli investimenti responsabili della Nazione Unita nel 2007, abbiamo lanciato il nostro primo fondo tematico sull'ambiente, quello che investe nell'acqua nel 99, abbiamo integrato tutti i criteri ISG nei processi di investimento di tutti i nostri fondi di investimento e siamo classificati da società di ricerca indipendente come tra le più importanti società di gestione del risparmio in Europa per quanto concerne gli investimenti sostenibili. Quindi questo un po' definisce quello che è il framework della sostenibilità per la nostra azienda. E lo possiamo anche testimoniare noi perché in un recente sondaggio che attraverso la nostra rivista Asset Management abbiamo realizzato attraverso i consulenti finanziari italiani effettivamente il sentiment che PicTé sia veramente la società di risparmio gestito in Italia che investe di più in ISG, per cui abbiamo anche dal lato nostro avuto questa ulteriore riprova. Accanto al tema della sostenibilità anche quello delle smart city che è stato oggetto anche già di un incontro, di una conferenza con Carlo Ratti dell'MIT che tra l'altro tornerà anche nella vostra di conferenza su questo tema cruciale. Beh, allora certamente il tema smart city è fortemente connesso al tema della sostenibilità. Diciamo che noi cercheremo nella nostra conferenza di portare a terra il concetto della sostenibilità per far capire che non è qualcosa di astratto ma è qualcosa che direttamente tocca le nostre vite, la nostra quotidianità e per cui parleremo quindi della crescente rilevanza della sostenibilità nel nostro mondo, nelle nostre città, l'habitat che viviamo quotidianamente e di tutte le innovazioni tecnologiche che stanno in maniera importante ridisegnando il modo di essere delle nostre città per renderle più smart, più vivibili. Da qui il titolo della nostra conferenza Smart is the new black che significa che il concetto della città intelligente, la città del futuro sta diventando sempre più rilevante e di questo parleremo appunto insieme a Carlo Ratti che è professore dell'MIT di Boston, uno dei principali esponenti a livello mondiale di tutte le innovazioni tecnologiche che stanno rendendo più intelligenti le nostre città e anche insieme a Roberta Cocco che è l'assessore del Comune di Milano responsabile per la trasformazione digitale con lei che sta rendendo sempre più smart la nostra bella città. Infatti abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite l'assessore Cocco anche sulle fonti tv a proposito in quel caso di fintech e blockchain, quindi insomma siamo sempre connessi. Io ringrazio nuovamente il nostro ospite per essere stato qui con noi, non mi resta che restituire la linea allo studio.